Un anno dopo sto andando nell'orto comunitario che ho fatto appena iniziato questa unione di tre conquilini confinanti, ecco sto entrando, qui abbiamo le zucche, qui anche io ho partecipato da questo progetto, comunque questo con un seme, solo seme messo qua in una zona abitata da Rovio un anno fa, abbiamo messo un semino qui, lì a coli e da questo semino c'è questo viaggio tra le zucche, se noi non le mangiamo ci faremo le ruote per la carrozza, poi una zucca, c'è già una seconda zucca, non so se si può vedere ma è roba grossa, sono zucche di pezzo meno 5 kg, 40 cm di diametro, ce ne abbiamo già due, ah ce n'è un'altra qua, che bellezza, questo è già un po' cialino, bella questa, grandi cavoli, cavolo romano, romanesco, fa la spiga, fantastico, non si sa come è mangiarlo ma sicuramente esteticamente è una bella pianta, ci potrebbe essere anche qualcos'altro, ecco un'altra, siamo già a quattro, c'è anche il fiorellino, sempre pronto, la prendo io, c'ho una, dell'occia, anche questa, non sta male, questa, 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 e questa, e quest'altra, continuando i fiori, poi c'è un altra zucca, insieme ha fatto un viaggio di, no, una trentina di metri, io vengo qua, poi c'è un'altra zucchina, vi, altre piccoline, non si sa se ce la faranno a svilupparsi, insiste anche in alto, questa rete, con la sua zucchina, gemellina, fiori per una bella frittata, per finire, anche qua, questa ci riempie la casa, orto comunitario, Santa Maria, eccolo qui, tre persone si sono soltanto parlate, hanno detto, ma questo spazio, io ci posso mettere la terra, te metti c'è la braccia, il braccio, io ci metto l'acqua, io raccolgo, io mangio, io zappo, qui ci sono anche, ci sono finocchi rimasti qui per il seme, altro cavolo, ormai i pomodori, sicuramente hanno avuto un bel, quando ho dato il suo prodotto, e ora sono nel finalone, qui abbiamo il grande noce che si è sviluppato notevolmente in un anno, ci hanno consigliato di levarlo, perché qui farà ombre, ma a noi ci piace, è un'istituzione, altri cavoli romaneschi, belli, bellissimo, questo è, abbiamo anche scheggia, il gatto del vicino, cavoli, dopo un anno che ha dato i suoi prodotti, là in fondo c'erano le zucchine, qui sono rimasti i peperoni, i peperoni gialli, verdi, e le melanzane, nonostante siamo a settembre, o a melanzana, ci abbiamo anche del big giuggiolo, grande giuggiolo, con le spine, qui abbiamo un bello, una melanzana piena di fiori, qui c'è il zucchino, menta e peperoni, peperoncini, sono già belli, rossini, assolutamente, c'è una menta peperita, molto interessante, qui c'erano i cocomeri e i poponi, che ora sono stati levati, questo è un altro peperoncino, una varietà particolare, qui c'è un inizio di piantagione di cipolline, sono protetti dai legni, qui sono i gatti, che le calpescano e le concimano, altra pianta di peperoni, e il peperoncino rosso, di là ci sono ancora i pomodori, perciò sperimentate queste nove forme di condivisione, basta parlarci, avere rispetto degli altri, educazione e il resto viene da sé, che ci sia il sole che piova, ciao orto comunitario, a impoli, Santa Maria, ciao, ciao,